Siamo sempre a Ispo, in questo caso sono con Enrico di Ferrino che ci presenterà i nuovi zaini da trekking e trail running dell'anno prossimo di Ferrino. Ciao Enrico! Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua con il nostro nuovo zaino Hike Master che nel mondo hiking sicuramente è il nostro zaino di punta per la collezione SS24. Parliamo di uno zaino, diciamo, da un medio piccolo litraggio, quindi siamo dai 25 ai 28, non andiamo sopra i 30, è uno zaino con un sistema, come vedete qua da video, sistema a rete tesa, noi chiamiamo così, un sistema a rete tesa molto compatto, molto comodo, diciamo, come fit. è un nuovo fit per noi questo, è l'evoluzione del dorso che avevamo sul finister e inoltre abbiamo brevettato questi nuovi spallacci in materiale auxetico che dovrebbero favorirne traspibilità e quindi anche il minor sudorazione del cliente. Ok, perfetto. Questo era il più piccolo, diciamo, della famiglia che andremo a presentare. Questo è il più piccolo della famiglia, è composto da tre modelli, uno qua che vedete qua, un altro modello, due modelli unisex, uno che ho in mano e un altro in verde, un modello specifico per le donne con fascia vita e fascia spalle appositamente studiato per il colpo femminile. Passiamo ora a degli zaini un pochino più grossi, cos'è, 50 litri giusto? Sì, qua passiamo col dandy che esce in due versioni, il 50 e il 60. Questo è uno zaino, diciamo, invece con un sistema dorso diverso, a contatto, molto semplice, ma allo stesso tempo molto comodo. Questo dorso a contatto, diciamo, veste comodamente più tipi di forme corporee, dal più alto al più piccolo, quindi non c'è bisogno, scusate, di un modello specifico femminile. E' uno zaino, diciamo, molto semplice, per le vostre escursioni, diciamo, un prezzo ragionevole per un prodotto di qualità, ma sicuramente con un prezzo troppo elevato. E poi c'è, diciamo, il fratello maggiore. Questo, come dicevamo, è l'altro per la nostra categoria trekking, si chiama Palakian, esce in due versioni 55 litri e 75, quindi con 20 in più. Anche questo è un dorso a contatto, ma con un sistema di regolazione che ti permette, invece, di tenerli in tre taglie. Quindi, diciamo, l'idea era di permettere anche a gente molto piccola, a volte abbiamo degli scout o dei ragazzi, veramente, che vanno, come sappiamo, a marciare con zaini molto grandi, a volte più grandi di loro, poter permettersi di portare un 55 litri e non essere più grandi loro del prodotto. Questo è sicuramente buono, sì. Infine, per i zaini hiking, trekking, prezzi? Ok, partiamo dal più economico che è il Dundee, a 124 euro, con litraggio più piccolo, saliamo a 164 euro con la Palakian nel suo litraggio più piccolo, ed arriviamo a 150 euro con il Lightmaster, che è un litraggio sicuramente più piccolo dei primi due, ma sicuramente un prodotto più tecnico. Esatto. Passiamo, adesso vediamo un attimo i nuovi zaini da trail. Ecco, qua invece vi presentiamo la nostra nuova linea trail, la linea trail è composta da un po' più di articoli di quelli che veniamo qua, ma ad oggi qua vi presentiamo le due forse più grandi novità. Uno è quello che è in mano, che è il nuovo vest, vest che esce in tre taglie, quindi dovrebbe accontentare i corpi di tutti, le taglie sono segnate all'interno del vest e basta misurarsi per capire qual è la taglia specifica. Il vest può montare, come vedete, borracce frontali, porta barrette, una tasca porta tutto dietro, una porta bastoni e un'ulteriore per i chi vuoi dietro. Molto piccolo, molto accessibile. Dunque, peso di questo? Questo siamo sui 240 grammi di vest e siamo con un prezzo, per un vest, un prezzo competitivo siamo a 99 euro. E poi, mi dicevi, c'è anche la versione più grande con membrana impermeabile, giusto? Esatto, questo diciamo, usciamo un po' dall'idea del vest, però perché andiamo ovviamente su un 15 litri, però è un prodotto molto interessante perché con la sua membrana Echidra interna fa sì che lo zaino diventi impermeabile all'interno fino a 10.000 colonne, ha un nuovo sistema, anche qui ovviamente ha le stesse configurazioni di accessori come l'altro, porta bastoni, tasche laterali e in più, qua in questo caso, non essendoci le taglie, diciamo c'è un dorsa a contatto con un suo sistema velcro di regolazione. Ok, perfetto. Prezzo di questo? 174. Ok, questi sono i design che vedremo dalla prossima stagione, ricordate lo 2024. Prossimo video vediamo tende e sacchia pelo ferrino. Grazie.